Sviluppo locale, economico e sociale in un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale. Questo è l'obiettivo di rilancio dell'area che parte da Montesano sulla Marcellana, che coinvolge i paesi di Moringerati, Bonabitacolo, Sanza, Casellempittari, Casaletto Spartano e Torre Orsaia. Un'azione di sviluppo del territorio da candidare a finanziamento attraverso i fondi relativi all'obiettivo operativo 1.12, promuovere la conoscenza della campagna e del PORFEST Campania 2007-2013. Un protocollo d'intesa che istituisce un'associazione temporanea di scopo. L'associazione dovrà allestire un apposito progetto dal nome alle falde del Cervato. Borghi da scoprire, candidato a finanziamento, il comune di Sanza sarà l'ente capofila, a cui spetterà il compito di assegnare l'incarico di coordinamento tecnico a professionisti dotati di specifica professionalità in relazione agli scopi dello stesso accordo.